Si raccusa nuovo anno scolastico, amministrazione comunale predica bene ma arrazzola male, bocciata. Le intenzioni di questa amministrazione sulla scuola è anche predica bene ma arrazzola male con la carenza reale che gli istituti dimostrano. Manutenzione degli edifici, riattivazione dei servizi energetici, un'adeguata assistenza ai bimbi con disabilità a cura del verde pubblico nelle scuole. Risulta che il contratto per l'erogazione del gas nelle scuole sia scaduto e che la società erogatrice del servizio nel mese di luglio abbia chiuso ai relativi contatori nella scuola. Vogliamo sapere, denuncia il Movimento Civico 4, il nome per conto dei cittadini e per quale ragione non sia stato previsto il rinnovo del contratto e a che punto sia l'iter per il ripristino. C'è il capitolo sul verde pubblico. I bimbi hanno iniziato l'anno scolastico trovando all'ingresso foreste di sterpaglie e verde incolto frutto della totale assenza di programmazione e di interventi adeguati nella cura del verde all'interno delle istituzioni scolastiche. In alcuni plessi sono rimasti residui dei lavori effettuati. Aggiungiamo la questione dei lavori in corso e del materiale di risulta dei cumuli di vecchi giochi, mobili accatastati, apparecchiature informatiche, cumuli di rifiuti accatastati all'esterno degli edifici scolastici, all'interno dell'area di pertinenza e di facile accesso anche per i bambini. Infine il Movimento riprende il tema dei servizi per i più deboli, rinnovando la battaglia per l'aumento delle ore degli assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità. Il Comune di Siracusa è lacunoso e ha progressivamente ridotto il numero di queste ore, che oggi sono solamente 8 alla settimana. Per fare un esempio la ex provincia regionale ne eroga 15 alla settimana. Peraltro la determina in questione stanzia fondi solo fino al 31 ottobre, come sempre con alto senso della programmazione, conclude Manciafico. Ma come può pensare l'amministrazione comunale di Siracusa di soddisfare in maniera sufficiente le esigenze di un bambino e regandogli solo 8 ore di assistenza sulle 40 in cui si trova scuola? Ritenete davvero che nella nostra comunità nessuno debba sentirsi escluso? Iniziate col declinare questo concetto nel concreto dei provvedimenti amministrativi.